Il mare porta una risposta Faccio tutto da solo, buonasera Grazie, molto gentile Allora Possiamo cominciare da tanti punti questa breve sintesi Ma il punto più importante è questo C'è questo mese di settembre, no? Freddino Che sta presentando record mondiale di temperature Da tutte le parti, compreso il nostro paese Se si vedono i grafici della temperatura di questo settembre In rapporto ai settembre passati Si vede che è veramente fuori scala E ottobre sta prendendo la stessa piega Però questo qui è il tempo, non è il clima Il tempo è quello che vediamo qua fuori Quando usciamo, appena finito qui, no? E sarebbe un errore dire che questo è il clima che cambia Però siccome è tanto tempo che registriamo fenomeni di questo tipo E li mettiamo tutti insieme A questo punto abbiamo delle indicazioni sul clima molto precise E cioè sappiamo che sta effettivamente facendo più caldo Questo influisce nelle nostre vite Vabbè, lo possiamo vedere Ma è un fatto incontestabile Eppure esistono ancora persone che ti dicono Pazzo, ma non è vero Quando ero piccolo io faceva più caldo Io stavo in canottiera C'hanno tutti i loro ricordi Ma un ricordo, per definizione, è tuo personale C'ha il suo valore Ma non può essere usato oggettivamente come un metro scientifico Invece quando parliamo di clima Parliamo di un fenomeno fisico Va affrontato col metodo scientifico E cioè lo devono affrontare gli specialisti nella materia Nell'unico territorio su cui questi specialisti si confrontano Cioè quello delle riviste scientifiche Fondamentalmente gli scienziati scrivono articoli E si incontrano ai congressi Metti conto che io ho un'idea fantastica Non lo so Decido che la Cappella degli Scrovegni Non la dipinta Giotto Ma Cimabue È un'idea che potrebbe essere vera oppure no Però se io volessi sostanziarla Dovrei scrivere qualche cosa che mi dica Guarda questo tratto qui è fatto così Quest'altro è fatto in quest'altra maniera Questo vedi uguale Insomma mettere giù una serie di dati E poi sottoporre a qualcuno Che vedendolo dice Ah sì effettivamente non ci avevo fatto caso Lo scrivi Lo pubblichi su una rivista Altri diranno Guarda è vero Pure io avevo notato Verranno in tuo soccorso Oppure diranno No guarda secondo me non è così Insomma dopo un po' di tempo L'idea Sarà o bocciata o respinta Se Oppure è accettata naturalmente Se viene accettata Più persone scrivono A favore tuo O cose simili alla tua Più questa idea Avrà un consenso scientifico Succede così con tutto È successo pure con la gravitazione universale No? Fino a che io prendo Un bicchiere di plastica E questo cade per terra Vuol dire che Newton C'ha ragione Va bene Riapro il dibattito Sulla gravitazione universale? No A meno che il bicchiere Non vada verso l'alto Allora c'è motivo di scrivere ancora E così è pure per il cambiamento climatico Sul cambiamento climatico Gli scienziati hanno già scritto Si sono già pronunciati A grandissima maggioranza C'è il 97% di consenso Sul fatto che questa crisi climatica Sia accelerata rispetto al passato Anomala e dovuta alle attività degli uomini Perché invece sono sicuro che voi non pensate Che tutti i ricercatori hanno la stessa idea sul clima? Vero? Se io vi dicessi di alzare la mano Questo mi succede sempre E dicessi Secondo voi gli scienziati hanno un'idea sola sul clima? Ce ne hanno due contrapposte o ce ne hanno tante? La maggior parte delle persone Dice che ne hanno tante Eh ma non è vero Perché noi gli articoli scientifici Li possiamo controllare Pensa che c'è uno che l'ha fatto Indovina che ha fatto questo Questo è un matto Poi l'hanno fatto tanti altri Ha deciso Siccome c'era quest'area un po' di negazionismo Sul cambiamento climatico Sul ruolo degli uomini Che cosa ha fatto? È andato a vedere anno per anno Tutte le pubblicazioni che quell'anno Si erano fatte sul clima Nelle riviste scientifiche Che sono tante Ma insomma non infinite Comunque parliamo di decine di migliaia di pubblicazioni Ha fatto due pile L'ha presa e l'ha letta E poi ha fatto di qua Una pila di articoli in cui c'era scritto Sì dipende dall'uomo È anomalo è accelerato E di là No qui non dipende dall'uomo Articoli che trattano naturalmente Della natura della crisi climatica Alla fine di un anno Io mi ricordo a memoria del 2013 Su 23.000 articoli Solo 21 Dice avevano qualche dubbio Sul fatto che ci fosse Una responsabilità di sapere Dunque una pila così E una bassa così È vero che in scienza Può sempre avere ragione uno solo No Naturalmente lo sappiamo Però è anche vero Che se vuoi avere ragione Devi avere dei dati E questi dati non ci sono Per cui Per quale ragione Mi dovrei fidare Di questi altri E non della maggioranza Eppure Come dicevamo prima Ma sono sicuro che voi pensate Che gli scienziati Non hanno tutti la stessa idea Sul cambiamento climatico Invece ce l'hanno Poi il lavoro è stato fatto più volte Insomma alla fine si è visto Che anche altri Che hanno fatto questo lavoro Di selezione Hanno tutti trovato Lo stesso risultato Cioè che Tutti gli specialisti Hanno la stessa idea Sul cambiamento climatico Allora perché noi continuiamo A pensare così? Da che dipende? Dipende da chi fa comunicazione Non dipende da voi Che siete ignoranti Uno potrebbe dire Madonna quanto so scemo No no voi cercate di assumere Le informazioni giustamente Ma queste informazioni Dove le prendete? E' sui mezzi di comunicazione E che cosa vedete O leggete? Il dibattito televisivo In cui mettono da una parte Quello che ti dice Come il 97% E dall'altra Quello come il 3% Ma non lo dovresti Nemmeno invitare a quell'altro Non ha nessun senso Oppure dovresti far parlare Per 97 minuti uno E per 3 minuti l'altro Così uno vedrebbe Il peso diverso E invece no Invece quello che succede E che si dà Capisco un po' la logica Quello che dice Vabbè se faccio un dibattito Tutto di una voce Non va bene Invece Pensa se litigano Quanto è meglio Sai quante volte Ma non è una questione politica Oppure la formazione Di una squadra di calcio Potete pure litigare Qui si parla del nostro futuro Si parla di un fenomeno fisico Si è formata Insomma Una vera corrente di pensiero Che si chiama Negazionismo Del clima Non tanto Perché assomiglia Quello della Shoah Perché da Ma semplicemente Perché si nega Il ruolo dell'uomo Nel cambiamento climatico Di oggi E vorrei pure di piantarla Con la storia Di chiamarlo cambiamento Perché il cambiamento Sembra quasi una cosa bella Che bel cambiamento climatico No Questa è una crisi Climatica Cambiamolo Cioè non possiamo usare Questa terminologia Come nasce Questo negazionismo E che frutti Beh che frutti porta Lo vediamo Sostanzialmente Perdi tempo Ed è questo Quello che cercano Tutta questa cosa Nasce E viene sviluppata In diversi episodi Negli Stati Uniti Vi spiego come nasce Poi il resto In realtà lo racconto Anche in un altro libro Che sta per uscire Ma insomma Qui ne faccio cenno E cioè come nasce Nel 1953 Uscì il primo studio Serio Su una di queste riviste Scientifiche Che metteva in relazione Il fumo di sigaretta Il catrame La nicotina E la carta Con il cancro E i polmoni In 1953 Uno studio Su una rivista internazionale Che avevano fatto Avevano preso Dei topolini Poverelli Li spalmavano Desta roba E gli si sviluppavano Dei grossi tumori Sull'epitermide Poi hanno fatto Altri studi Con uno studio robusto Che effetto Ha provocato Questo studio Che chi Aveva La produzione Del tabacco Le major Americani del tabacco Naturalmente L'hanno visto Come una grande minaccia Se tu mi dici Che il fumo Fa venire il cancro Vedrai che I nostri affari Precipitano Quindi hanno cominciato A puntare Sul fatto che Comunque il fumo È una scelta individuale Quindi Tu puoi scegliere Oppure no Ma a quel tempo Si faceva la pubblicità Le sigarette In America era esplicita Da noi no E poi dopo un po' Negli anni 70 Uscì un altro studio Quello più pericoloso Per loro Che diceva Che il fumo passivo Pure Ti faceva venire Il cancro ai polmoni Dunque tu stai vicino a uno Non fumi Però ti viene lo stesso A quel punto A quel punto ci voleva Una strategia di risposta Recrutarono perciò Poi questo è venuto fuori Diciamo dai rapporti Che sono stati Desecretati Di queste compagnie Recrutarono perciò Due scienziati Si chiamavano Frederick Seitz E Fred Singer Due scienziati Nuclearisti Americani Che erano stati Molto attivi Al tempo della guerra fredda Fieramente Anticomunisti Questi due scienziati Non avevano più Un ruolo di rilievo Ormai la guerra fredda Stava finendo Dunque non c'era più ragione Di tenerli In un ruolo di rilievo E ne avevano più entrate Furono reclutati Dalle major del tabacco Che sono quattro Fondamentalmente Che gli dissero Senti Dobbiamo fare una strategia Di comunicazione Diversa Perché una strategia Scientifica Non era possibile Non c'era un'altra verità Era sicuro Che il fumo Ti faceva venire il cancro Dunque Non potevano propagandare Un'altra verità scientifica Però potevano fare Un'altra cosa Mettere insieme Una macchina comunicativa Che ci raccontasse Sì magari è vero Che il fumo Ti fa venire il cancro Ma quello che mangi È la macchina che guidi È l'aeroplano che prendi È la fabbrica dove lavori Tutte cose vere Ma che centravano però Con l'oggetto Della discussione Nulla E loro fecero proprio questo Pubblicazione di libri Di pamphlet Di articoli Sui giornali Convincendo i giornalisti Che Su un fenomeno come quello Era opportuno Sentire tutte le voci Ma non era opportuno Perché Non erano voci scientifiche Fatto sta Che con questa cortina Di fumo Di controinformazione Non scientifica Non si sono prodotti Altri articoli scientifici Non era possibile Ma solo articoli Divulgativi Cioè di comunicazione La prima causa Che vede Le maggiori del tabacco Americane Condannate Per questa ragione È del 1996 Il primo articolo Del 1953 Che cosa è successo? Che hanno guadagnato 40 anni di profitti Solo questo E la stessa cosa Vale per il clima Il negazionista Non è interessato A un'altra verità scientifica Non c'è Non è interessato A un'alternativa Non ce l'ha È interessato A fare confusione A far perdere tempo A fare in modo Che non si regolamenti Il settore Che non arrivi La mano pubblica Dello Stato Sull'economia Del libero mercato Che cioè Si possano fare Ancora profitti Ora non ve la racconto tutta Ma questi due Sempre questi due Si sono Hanno fatto lo stesso lavoro Sul DDT Sulla lacerazione Dello strato di ozono Sulle piogge acide E sul clima Fino a che non sono finalmente Poveracci morti E non hanno potuto più fare nulla Contro Il cambiamento climatico Perché pure su quello Si erano Dati da fare Ci dispiace sempre Se morre qualcuno Ma insomma però Anche basta Nel senso che Ora Tutto questo È stato poi Tramutato in vari paesi Nei paesi anglosassoni È difficile che ci sia Un negazionismo molto forte Perché spesso La radice Alfabetizzata Scientifica È forte Da noi Dove questa radice È un po' più bassa Certe volte Appresa Non sono tantissimi Poi alla fine Questi negazionisti Sono però molto aggressivi E quello che dicono Sono le stesse cose Ah ma siamo sicuri Non abbiamo abbastanza dati Qualcun altro A me mi fanno Dicono delle cose Qualcuno dice Eh vabbè ma È vero Sì forse il 97% Ma anche Galilei Aveva ragione Ed era da solo Tu li senti E ti domandi Se sono più ignoranti In quello che succede oggi O in quello che succedeva Al tempo di Galileo Ecco Giusto a Padova Ne possiamo parlare Dunque Galileo Galilei Arriva per ultimo A raccontarci le storie Dell'eliocentrismo Dopo che Copernico Sul letto di morte Aveva pubblicato Copernico è venuto qui A studiare medicina Aveva pubblicato Il De Rivoluzioni Bus In cui si diceva Che era il sole Al centro Dell'universo C'era stato poi Tico Brache L'astronomo danese Che aveva fatto I suoi calcoli Lui non era Convintissimo Ma i calcoli Però gli venivano così E infine c'era stato Cheplero Che aveva messo Addirittura L'orbita ellittica Non più circolare Col sole sempre In uno dei fuochi Galilei dunque Arriva In pieno Mainstream Come si dice Cioè la pensava Come tutti gli altri Scienziati dell'epoca Semmai andava contro la chiesa Ma quella non era scienza Sono così ignoranti Che ti tirano fuori Galilei Non lo sanno mica Che lui aveva La stessa idea Che avevano gli altri Ti raccontano Che Galileo da solo Aveva dovuto abbiurare Sì ma da solo Contro la chiesa Non contro La scienza Che nasceva poi Come metodo In quei secoli In quei decenni Lì Dunque Diciamo Quello da cui Bisogna ripararsi È proprio questa idea Che tu possa Su tutte le cose Discutere Alla stessa maniera Come se si trattasse Appunto della torta al cioccolato Chi la farà meglio Ma io metto questo Io ci metto la marmellata D'arancia Ma questo Dal punto di vista scientifico Non ha nessun senso L'altra cosa Che tirano fuori Questi negazionisti E quell'altra dice Eh però Quel premio Nobel L'ultimo che viene citato Molto è John Closer Ci dice che Non è Ma quello Un premio Nobel È tutta un'altra Disciplina Perché me lo tiri in ballo Io pure ascolto Molto volentieri Le opinioni Di un premio Nobel Perché Evidentemente Sono interessanti Ma dal punto di vista scientifico Se non le pubblichi Con quel metodo Che ho detto prima Contano zero Zero La stessa cosa Quando tirano fuori Il tale Scienziato italiano Molto famoso Eh ma quello Ha detto Sì Ma lo devi scrivere Non è che Non è che me lo racconti Al giornale Pensi che sia il sole A determinare Questo cambiamento climatico E non le attività Dei sapere Può essere Scrivilo Metti i citati Vieni pubblicato Da quel momento Diamo retta a te E invece Dicono queste cose Ma poi Ognuno di questi parametri Che tu possa prendere In considerazione Il sole L'eccentricità dell'orbita Eh La Le correnti oceaniche La disposizione dei continenti Sono stati tutti quanti studiati E si vede che hanno un andamento Piuttosto Normale Mentre invece Comunque sia La misura delle temperature Dell'atmosfera degli oceani È esponenziale Cioè sta crescendo Nella maniera Che stiamo registrando Oggi A settembre Questo 2023 Si avvia essere L'anno più caldo Di tutti quelli Da quando registriamo E lì arriva sempre quello Ah Ma come registravate Prima che non c'erano i termometri Certo Le Valutazioni Erano diverse Però Come prima dei termometri Ti accorgevi Se qualcuno C'aveva la febbre Così prima dei termometri Ti accorgi Quando la temperatura Cresce E lo fai Con i metodi Paleoclimatici Che cosa sono? Misuri per esempio Nelle rocce I pollini Vedi che pollini sono Misuri le piante fossili Quali piante ci sono Dunque puoi in qualche maniera Indirettamente Avere informazioni sul clima Non saranno precise Come quelle dei termometri Ma le puoi misurare E peraltro Da un certo punto di vista Da un certo punto Nella storia in poi Sono precise Perché quando cominciano A esserci le cronache Scritte a mano Anche nel medioevo Quello lo vedi Spesso ti raccontano Dice Ma come fai a dire Questa cosa qui Che nel medioevo C'era la piccola Età glaciale E anche invece L'età aurea Come dire L'età di caldo Per qualsiasi Periodo di riferimento Tu prendi Prima degli anni 50 Qualsiasi periodo Di riferimento Tu prendi Comunque era mediamente Più freddo di questo Comunque Compreso il medioevo Compreso il tempo Dei romani Comunque più freddo E tutto questo Sta succedendo In pochissimo tempo E quello che succede Che se a me Mi docca dare retta Ai negazionisti Io perdo tempo Non si fanno Cioè regolamentazioni Sul clima Per cui io ho deciso Che Per quel poco che conta Si intende Insomma Nella mia trasmissione Faccio un po' come mi pare Ma insomma Se mi invitano Da qualche parte Chiedo chi c'è Dice no Vorremmo un dibattito Dibattito io non lo faccio Perché Non mi piace giocare a scacchi Con i piccioni Non conoscono le regole Sporcano tutto di cacca Mandano operare ai pezzi E se ne vanno via Impettiti come se avessero vinto Non si fa Preferisco rinunciare E questo Naturalmente È un problema Perché poi senti Un ministro dell'ambiente Come il nostro Che si commuove Alle parole Di una ragazza Che gli dice Che devo pensare io Per il mio futuro E lui piange con lei Una cosa che mi ha colpito Pure a me E poi però Lo senti nelle interviste Dici no ma sai Però non tutti gli scienziati La pensano così Dove l'hai letta sta cosa? Non è vero La pensano tutti Più o meno tutti così Perché dovrei seguirne uno solo? Mette che io C'abbia un parente Gravemente malato Chiamo i 100 migliori specialisti Della sua malattia Al capezzale E 98 mi dicono Che devo operarlo subito Due dicono Ma non lo so Secondo te? Che farei? Quali elementi ci avrei io? Per dire No preferisco sentire quest'altro Sono solo elementi Di convenienza Spesso vengono Tirate in ballo altre cose Tipo un fantomatico organismo Che si chiama Clintel Non so se l'avete mai sentito dire Un organismo Che avrebbe scritto Una lettera firmata Da 1800 scienziati Uno dice Madonna come 1800 scienziati Che dicono Che si fa bene A essere scettici La vai a vedere E non sono 1800 Sono alcune centinaia Ma dentro ci sono Con tutto il rispetto Una marea di impiegati E professori Della scuola media Artigiani di ogni tipo Alcuni sommelier Perché dovrei prendere Questa No Un'opinione Per carità Ma dal punto di vista scientifico Sempre zero conta Non dovrei nemmeno Ascoltarla Una cosa del genere Eppure Viene Tirata in ballo Qui c'è solo Una questione di convenienza Non si vuole Regolamentare Perché Nella regolamentazione Qualcuno perderà qualcosa Faccio un esempio Con i grandi accordi Internazionali Sul clima Che non si riesce Come mai non si riesce Ad andare a un accordo Sul clima E gli scienziati Dicono così Pubblichano i report Che sono per tutti Addirittura i report Sono pubblicati All'ONU Dunque tutti i paesi Aderiscono Perché non si fa qualcosa E dobbiamo aspettare La Laudate diem L'enciclica del papa Dell'altro giorno Che dice Guarda Dice le stesse cose Gli scienziati Incredibile a leggere La chiesa è quella di Galileo Poi scrive che Gli scienziati Ci hanno ragione Vabbè Detto questo Perché non si fa qualcosa Ma per una ragione Molto chiara Si va a questi accordi Internazionali E tu c'hai da una parte Il mondo nostro Diciamo quello Più ricco Più fortunato E il mondo di quelli Che emergono ora La Cina L'India Brasile La Turchia Insomma questi paesi qui Ecco Quando vai ad accordarti Quelli ti dicono Scusa ma Tu ti sei sviluppato Per due secoli Come ti pareva a te Hai fatto carne di porco Dell'ambiente Hai inquinato Da matti Ora vuoi dire a noi Come dobbiamo fare Magari c'hai ragione Ma forse devi compensarci E come fai a dire Ganno torto Noi spesso ci raccontiamo Ma l'Italia Ma l'Europa Inquinano poco Avete mai sentito Questa cosa Il 7% L'8% Oggi Ma l'anisite carbonica In atmosfera Si accumula Ci sta quasi un secolo Dunque se tu fai Un corretto diagramma Accumulativo O come si chiama Cioè Prendi tutta l'anidride carbonica Emessa Parti dal 18esimo secolo E la porti ad oggi L'Europa è inquinato Per il 33% Cioè più di tutti Oggi inquina meno Ma se tu comuni tutto Eh c'è un passato Che non è che puoi cancellare così Quindi ti tocca pure a te E a loro toccherà invece Dargli una compensazione Cioè ridistribuire ricchezza E tu lo vedi qualcuno Che ridistribuisce C'è un'altra contraddizione E' vero che i cinesi e gli indiani Qui non assai Perché sono tanti Ma il singolo indiano Emette due tonnellate di anidride carbonica All'anno Se facciamo complessivamente Il suo impatto Il singolo italiano 7 Il singolo statunitense 16 Ora E' come se io Stati Uniti Avesse 5 fette di torta E l'India una E io dico Sai Qui c'è un problema Leviamoci una fetta per uno Come possiamo pensare Che se la bevono questa cosa Non è possibile Chi è che dovrebbe negoziare Il suo stile di vita L'indiano O l'africano Che emette meno di mezza tonnellata O lo statunitense Che non lo vuole negoziare E emette 16 tonnellate Non funzioneranno mai Gli accordi internazionali sul clima Non possono funzionare Il presupposto E' troppo E' troppo friabile Il presupposto è Preoccupiamoci del mondo Che sta avendo una crisi Sì Lo capisco benissimo Ma Non puoi ottenere questo Senza dare qualcosa in cambio E noi in cambio Non vogliamo dare proprio niente Dunque In questo Colossale circuito Noi ci possiamo domandare Vabbè ma noi Che possiamo fare Di veramente concreto Ora Noi singoli Possiamo fare le nostre cose Ma di fatto Se non c'è un accordo internazionale E' difficile Che andiamo da qualche parte Ci vuole Qualche cosa di più E allora Abbiamo pensato Che potrebbe essere Una risoluzione tecnologica No? Per esempio Sostituire la vettura A motore endotermico Con la vettura A motore elettrico Ora Per chi ha fatto un po' di fisica Sa benissimo Che un motore elettrico Non ha paragone Con un motore endotermico È molto più efficiente Comunque tu Lo alimenti Poi se lo alimenti Con le energie rinnovabili Diciamo L'impatto È contenuto Mentre invece Un motore endotermico Non riesci A renderlo migliore Di quant'è Un rendimento Molto basso L'efficienza Molto bassa Quasi tutto va via In calori In attriti Sostanzialmente Le auto vetture Sono delle stufe Con le ruote Queste sono Invece quelle elettriche Sono più efficienti Però da noi La battaglia è Però se noi Cediamo all'elettrico Cediamo alla Cina Che le sta facendo Non potresti Mettertela a fare pure tu? Siamo stati così bravi No? Con l'Alfa Romeo Con tutte le altre Marche In cui Con il motore a combustione Siamo stati In un'eccellenza mondiale Ora quello elettrico Non lo sappiamo fare Non ci sanno mettere le mani È una cosa Che non ci si può credere È semplicemente Che sei legato A quel vecchio mondo lì Ed è quello che manca Quello che manca È una visione Nuova È un mondo In cui i combustibili fossili Non ci sono più Ma è difficilissimo Da immaginare Chi è che ci riesce A dire Ma non pensa Un domani Un mondo senza Non Quasi non Però se ci pensi È quasi sempre successo così Tu immagina Quando al tempo Quando ero ragazzino io Scrivevo lettere a mano Facevo la brutta e la bella Tu pensa un po' E la posta Veniva consegnata due volte al giorno A me arrivavano in vacanza Due volte al giorno Le lettere di mio padre E io sentivo il profumo di mio padre Era tutta una cosa Mai avrei immaginato A quel tempo E nemmeno i miei genitori Che le scrivevano Che dopo 20 o 30 anni Addirittura avresti avuto Il fax O la mail La lettera Ti arriva subito Ma chi Ma Non avresti mai potuto immaginare Avresti mai potuto immaginare Che col telefono Che allora esisteva E stava attaccato In ingresso Nero Oppure Era grigio Ci aveva La Come si chiama La ruota per i pulsanti Ecco Avresti mai immaginato Che col telefono Ci avresti scritto Ma mai Ecco che voglio dire Quello sforzo lì Che ci manca Come lo possiamo immaginare Il futuro Oggi Dal punto di vista Dell'energia Perché poi è quello Che conta di più Ma anche dell'alimentazione O del come ci sposteremo Un domani E quello che manca È questa visione qui Noi non ce l'abbiamo Ed è difficile Da averla pure Per chi studia Una visione In cui Tu pensa ai combustibili fossili Come sono entrati Dentro di noi Come un cavallo di troia C'erano spinto Dentro le mura Ci ha reso felici E ricchi Questo senz'altro Ma non sappiamo più Come cacciarlo fuori Ci manca La visione Quella Noi non ce l'abbiamo Non riusciamo Proprio a immaginare Tu immagini A domani Un futuro in cui Le vetture Non fanno rumore Perché sono tutte elettriche Ero Ma tu pensa E non inquinano Naturalmente Però invece Invece perdiamo tempo A pensare che L'autobus M Della tragedia di Mestre Siccome c'era Le batterie sul tetto E per quello Che si è rovesciata E ha preso fuoco Per le batterie Che è una follia Senza senso Non sarà il caso Che ti occupi Di vedere Chi quel guardrail L'ha lasciato alto 50 cm Arrugginito E queste cose Non sono di competenza O della regione O del ministero Delle infrastrutture Perché Poi bisogna pure dirle Le cose Di chi sarà la colpa Se quel cadrail È in quelle condizioni lì Per non dire Del parapetto Che era quell'altro Di ferro Che seppure Un pedone Si appoggiava Andava di sotto Lo stesso Cioè Ma Ha detto questo Che ovviamente Basta guardare una statistica Per vedere che Chi piglia più fuoco Sono le vetture A gas E dopodiché Sono quelle ibride Poi vengono quelle elettriche Con una percentuale Ridicola Però sembrerebbe Che sono Che il problema Sia quello No ma Tu immagini In questo mondo In cui nella città Autoprivata è poca Perché tipo a Roma È bene che si E poi senza rumore E senza inquinanti Poi vai a Nanchino Città popolosa Apri la finestra D'albergo E non senti nessun rumore Perché quelli Le stanno facendo E le mettono su strada E tu come competi No Voglio tenermi Il mio motore a scoppio Ma non c'è nessun senso Sta cosa Non riusciamo Abbiamo una classe Imprenditoriale Di conigli Che non ha alcuna Intenzione Di investire sul futuro Nessuna Vuole mantenere Gli affari Come sono Business as usual Bau Come dicono gli statuti Così Non voglio Fermo Non ho paura Dove devo andare Non mi muovo Ibozzolato In quei privilegi Che poi Come sapete Nel mondo impetilitario Con tutto rispetto Molti sono di protezione No Di corporazione Quasi potrei dire Ecco Noi Non riusciamo Né dal punto di vista creativo Né dal punto di vista produttivo A immaginare un futuro diverso E un po' il problema è questo Ma tanto Quella transizione arriva Cioè Non possiamo pensare Che non ti coglie Quella transizione ecologica Energetica Che vogliamo fare? Vogliamo resistere? Noi tutti qui così A resistere a che? È un po' come pure Sulla carne coltivata Ora La carne coltivata Noi non sappiamo benissimo Quali siano i rischi Della salute Ed è bene indagarli Quello è un filone di ricerca Aperto Vediamo se c'ha dei rischi Potrebbe averli Sebbene Ma Dal punto di vista ambientale Non vi dico quanto conviene Consuma quasi zero suolo Pochissima acqua Un po' di energia Ma si può fare rinnovabile E questi famigerati Bioreattori Avete sentito no? Eh ma usiamo i bioreattori Ma secondo te Il vino Come lo fai? Non lo farai con bioreattore? E l'olio pure Quelli sì Però la carne coltivata No Noi rinunciamo addirittura Non solo A fabbricarla Ma A metterci Qualsiasi contributo Di idee Cioè ci siamo tirati fuori Unico paese al mondo Da un trend Che ci travolgerà Per forza Perché non c'è stata visione Non hai capito Che quello è il futuro Io ho avuto peraltro L'avventura di assaggiarla In Israele E Diciamo Al di là del fatto che È meno Come potrei dire Meno grassa forse Più secca Adesso Però se vuole È quello E L'impatto ambientale È limitato L'impatto sulla salute Addirittura è più magra Ma comunque Certo lì Non devi eccedere E soprattutto Dal punto di vista etico Non fai male a nessuno Perché non si usa più Nemmeno Le cellule del feto Della vacca Che lo devi prendere No Si può fare artificialmente Quello Come il caglio artificiale Sintetico E quindi basta Qual è il problema? Una cellula Una cellula Fa diecimila chili di carne E noi Ci tiriamo indietro da questo Tanto poi Lo compreremo No? Perché Non è che mi potrà impedire Di comprarla Mi toccherà comprare Alla destra Quando potevo sviluppare Una filiera qui Ecco perché dico Che gli imprenditori Eppure i politici Qua sono dei conigli Pensano di difendere Un'identità Che non c'è più È la tipica identità Di chi non è più nessuno E si attacca A quei valori identitari Che non hanno nessun senso Perché non sei Non conti Invece di prendere La palla al balzo E dire Guarda Ste cose le facciamo meglio Degli altri Perché Insomma Noi siamo stati Capaci di grandi cose Anche di una grande bellezza Pure di una grande bruttezza Basterebbe vedere La periferia della mia città Insomma Perché Se viene un amico Dagli Stati Uniti Lo bendo a Fiumicino E gli levo la benda A Colosseo Perché Se gli faccio vedere Quello che vede in mezzo Non ci viene più Naturalmente Ecco È un po' questo Che ci manca È un po' questo Perché ho scritto questo libro Perché è un'altra Possibilità c'è Quella di prendere Per buone le cose Che ci dicono i ricercatori E gli scienziati Che stiamo facendo Le resistenze sul nulla Insomma Sarebbe veramente ridicolo E invece Essere semmai critici Sulle questioni Che Su cui ancora Si può essere critico Ma io Non posso pensare Che la battaglia Si è ridotta Ormai A chi ti dice No io vorrei l'autoretrica Perché ho i soldi E invece io ho la panda Euro 1 E devo quindi Per far Ma non è Ma come possiamo Ridurla così Non ha nessun senso Questa cosa Qui davanti Che cosa c'hai Sul piatto della bilancia Sul piatto della bilancia C'hai un futuro Per tuo figlio E per i tuoi nipoti Dall'altra parte Invece c'hai Il valore economico Di oggi Il prezzo di oggi Ma non sappiamo Guardare un po' più là Tante volte Ho visto molti adulti Molto incazzati Con questi ragazzi E non solo ragazzi Di ultima generazione Ma mi ha colpito In particolare Questo fatto Perché l'ho visto Stavo lì Mentre a Fontana Di Piazza di Spagna La Fontana Era a Barcaccia Quella disegnata E scolpita da Bernini Come una vecchia Barca del Tevere Si chiama così Per questa ragione Quella che sta proprio Al centro della piazza Ai piedi della scalinata Di Trinidadi Monti Questi hanno rovesciato Un carbone vegetale liquido Che poi è sparito subito Diciamo che l'impatto è zero Perché non ci devi mettere acqua Sta già nell'acqua È biologico Non devi pulire niente Non devi chiamare nessuno A fare nulla Va via da solo E persistito 5 minuti E io ero lì Poliziotti arrivano Poi sono andato a vedere Perché sai Molti si mettono i piedi Nella fontana Sono andato a vedere bene Nella fontana Perché mi ricordavo qualcosa Ma era la cosa Che avevo studiato Al tempo in cui facevo Lo studente di Geologia Il mio professore Mi diceva sempre Roma è tutta costruita Di travertino E così anche la barcaccia Guardate bene Questa roccia Quanta è porosa E allora sono andato A guardarla da vicino In tutti Diciamo Le piccole spaccatore Le asole Che si aprono Nel travertino Ci stanno Millimetri e millimetri Di fuligine nera Quella ce l'abbiamo pure Nei polmoni Di quella Non si scandalizza nessuno Di questi che buttano Una cosa che va via subito Si scandalizzano tutti Un'ipocresia Senza fine Perché non è possibile Come fai a non notare Quella roba lì tutti i giorni Quella ce l'hai sempre lì E non te ne sei accorto Che la fontana È così ridotta No Te devi accorgere Del ragazzo che Non sono i miei metodi Non faccio quelle cose Però Non posso fare a meno Di notare che Quella è una questione Proprio di Ecco Noi non vogliamo Che un ragazzo Anche se è il nostro figlio O una ragazza Con le treccine O un signore vestito di bianco Puntino il dito E ti dicano Guarda è colpa tua Questo noi Non lo possiamo sopportare Non lo vogliamo sopportare È colpa dei cinesi È colpa degli indiani È colpa di Purché sia qualcun altro Ora Nessuno se ne deve andare da qui Col senso di colpa Noi abbiamo vissuto così Questa è la nostra storia Siamo arrivati adesso Non sono stato io Giulio Cesare Non sono stato io Il conquistatore Non so Però Quella è la nostra storia Siamo iscritti lì Nella parte ricca E fortunata del mondo Credo che sia giusto Sentire tutti i sapiens Come Facenti parte Di un'unica specie Peraltro lo sono Con un'unica storia Peraltro la è Con un destino Che possiamo Scrivere noi Ma che cos'è Che ci rende così diversi Dagli altri viventi Perché i sapiens Sono così differenti Che fanno di diverso Guarda ci abbiamo provato In tutti i modi A dare una risposta A questa domanda Saranno più intelligenti Useranno le mani Useranno la tecnologia Parleranno Raccoteranno Tutte cose che fanno Pure tutti gli altri viventi Questo a Pato L'ho già raccontato Tante volte Ma insomma Se uno guarda Un vivente Guarda un insetto Una pianta Un virus Un batterio Ci hanno tutte strategie Intelligenti Di sopravvivenza Che siamo soltanto noi Perché noi concepiamo La vita così Ci sono I microorganismi Poi ci sono gli insetti Le piante Poi ci saranno I pesci Gli anfibi I rettili I mammiferi Gli uccelli Poi ci siamo Non è una piramide Che c'è la piramide Della vita In cui noi siamo Al vertice Ma che vorrebbe dire Tu pensa soltanto A questo Sciacurato SARS-CoV-2 Che quello Non c'è manco il DNA Un pezzo di RNA Che cosa fa? Ha imparato Da suo cugino SARS-CoV-1 SARS-CoV-1 Non lo sapete Ha fatto piccoli Focolai Di epidemie In Asia Ma non si è propagato Tanto E come si propagava? Andava Con la tosse O lo sternuto Tu sternutisci C'hai una lunga Gittata E vai a colpire Qualcun altro Però quando sternutisci O tossisci Che non è il nostro Metodo di levare il fastidio È esattamente Il metodo del virus Per passare da un corpo All'altro Tu lo fai E sai già Che sei malato Quindi ti ripari Ti metti la mascherina Magari stai a casa A letto Eccetera SARS-CoV-2 Sa questa cosa Sa tra virgolette Dunque lui Ti infetta solo Col respiro Che tu non lo sai Che sei malato E non è geniale Non sono tante strategie Così intelligenti Di vita Ti ricordi quando Al tempo della pandemia Ti dicevano Ah fa C'ha molte variazioni Molte varianti Speriamo che arrivi Quella buona Per chi? Solo per lui Non esistono Le varianti buone Per l'altro Ma lui Lui se ne frega Di quello che succede Al corpo ospite L'unica cosa È andare via Prima che hai tagliato i punti Prima che muore Ma dopodiché Non gli sbatte granché Con tutti i miliardi Di variazioni che c'aveva L'unica variazione Ad essere premiata Sarebbe stata certamente Quella buona per lui Non per noi E noi lì a dire No ma vedrai che è più buono No L'unica cosa che cambiava È che in queste strategie intelligenti Sapendo che i sapiens Reagiscono con Mascherine Vaccine Eccetera L'unica cosa che puoi fare È va bene Divento più contagioso Sempre tra virgolette Ma sono meno mortale Che poi è quello che è successo Di fatto Equilibrio epidemiologico Poi a questo arriviamo E noi non siamo stati in grado Manco di capire quello Manco di capire che tutto quello C'è una radice ambientale Come sapete Nonostante O intanto venga fuori Lo studio della CIA Che dice Il virus l'hanno portato in laboratorio Quell'altro che ti dice No ma l'hanno creato Allora Articoli scientifici Su questo ce ne sono diversi Non tantissimi Ma diversi E sappiamo per certo Che l'origine è naturale C'è un patrimonio genetico Ben definito Già studiato Poi se qualcuno In un laboratorio L'ha preso Gli è cascato È andato al mercato Questo Difficile da provare Ma certamente L'origine è naturale E perché è naturale? Perché noi facciamo Carne di porco Delle foreste Dove ci stanno Sti pipistrelli Che sono Oggettivamente Concentrate i virali E che dunque Trasmettono ad altre specie Quel virus Attraverso i loro bocconi Caduti a terra Quando stanno di sopra A piedi all'insù Questo Questo è Quindi Se noi usassimo più natura Avremmo anche più sicurezza Oltre che magari Un'economia migliore Vi saluterei Con quest'ultima storiellina Che è un po' Sulla transizione ecologica Noi ci domandiamo spesso Questa storia Della transizione ecologica Ma insomma Dovremmo essere più preparati Cerchiamo di fare delle cose Come se dipendesse da noi Come se la L'agenda La dettassimo noi L'agenda la dettà La crisi climatica Tu non fai proprio niente E come con la pandemia E ricordate con la pandemia Noi faremo Sempre a inseguirla Perché non potevi fare altro Ti detta lei i tempi E così pure la crisi climatica La crisi climatica Detta i tempi E così la transizione ecologica Arriverà La cosa migliore è che tu sei pronto No? Eh, sei sapiens Ci sarà pure un motivo per cui Ricorda Sembra sempre ricordato Poi ad un certo punto ho focalizzato Ma dove l'ho letta sta cosa Naturalmente Nel caso che vi sto per raccontare Era molto più mortale Qui si parla di una cosa Che invece noi possiamo maneggiare Ed è una storia famosa Talmudica In cui C'è un Un vecchio nobile Che manda il suo servo al mercato Si trovano nella città di Baghdad E il servo va al mercato E torna di corsa Molto prima Di aver fatto le sue Commissioni Servo Abbiate pazienza Per via della storia E torna prima E va dal padrone E dice Padrone guarda io devo andare via Non posso stare qui Perché al mercato Ho incontrato la morte Che mi ha minacciato Mi ha fatto così Il padrone è rimasto No no certo Non puoi stare qui Ti do il mio migliore cavallo Vai a Bassora E lui prende il cavallo E va Oh oh cavallo E a un certo punto Il padrone però Rimane un po' così E dice Ma scusa Fammi capire un attimo Che è successo E va al mercato E in cerca della morte La vede Avvolta E gli dice Ma scusa Perché hai minacciato il mio servo Non ti aveva fatto niente No Le fa lei Non l'ho minacciato Mi sono sorpresa Lo aspettavo a Bassora Ed è lì che sto andando Arrivederci Grazie. Grazie.